Davvero importante poi nel giorno in cui i figliati dell'Istat ci danno a 655 mila posti di lavoro in più dal primo gioco d'azione di governo, mi ha fatto praticamente piacere vedere delle aziende straordinarie, molto forti e aziende che stanno assumendo e stanno creando nuovi posti di lavoro. Quindi, guarda, tanto è importante, non dobbiamo nascondere tra mille problemi che dobbiamo affrontare, però per rilanciare e far partire con la mia c'è bisogno di aziende come queste e di realtà anche per questo. Buon lavoro e bocca al lupo a tutti!